Comunico il risultato della votazione come da verbale già firmato da Presidente e dai segretari provvisori. Presenti 40, votanti 40, maggioranza assoluta dei voti 21, hanno riportato voti. Casini 21, Zanetti 9, Martelli 5, Tabacci 3, schede nulle 0, schede bianche 2. Proclamo quindi eletto Presidente della Commissione il Senatore Piedinando Casini che invito ad assumere la Presidenza per il proseguo dei lavori. Con l'augurio di buon lavoro naturalmente. Grazie.